Si chiama Chupacabras, guardate questa immagine, abbiamo girate noi stessi in un museo dove c'era l'esposizione degli oggetti particolari, incredibili, quegli oggetti che non dovrebbero esistere. Pensate, le analisi che sono state fatte riportano addirittura dei DNA diversi. C'è chi pensa che sia un insieme di altri animali messi come un puzzle insieme, corpo da rettile o da vampiro addirittura, di altri esseri misteriosi e mostruosi, ma invece c'è chi dice che quello che state vedendo è stato visto vivo, agonizzante a terra e che quindi non è un patchwork di altri esseri.